ci siamo che bello è così che mi piace iniziare è così che mi piace iniziare tutto tutto, sì 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 mi piace iniziare i podcast proprio in questo modo una bella giornata oggi devo dire bellissima, una giornata ricca di ricca di novità ricca di segni più diciamo intanto facciamo vedere tutto quello che abbiamo fatto oggi, lo sfoggiamo lo sfoggiamo così vantiamoci di quello che abbiamo fatto di quello che abbiamo fatto tu vantiamoci di quello che abbiamo fatto tu vantiamoci un po' e niente niente ragazzi purtroppo noi iniziamo così in questo modo con dei problemi tecnici giusto per far capire anche ai nostri ascoltatori che cosa si troveranno davanti ovviamente da qui all'eternità eccoci qua questo passa il convento eccoci qua eccoci qua, eccoci qua che meraviglia allora Daniele quanti episodi uni abbiamo fatto? parecchi 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 però diciamo che è come quando uno conta le conto fino a tre uno 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 non può arrivare al tre è un presente ecco esattamente infinitamente allora innanzitutto ci tengo a dire una cosa che che ci tengo a dirla che io sto con Marco Crepaldi lo sto dicendo qui eh tanto a tutti poi è un e questo lo conoscerevo perché è un una persona che a mio parere sta subendo delle ingiustizie ed è una persona che si trova su ma non pubblicizziamo troppo però è una persona che si trova su Twitch su Youtube ed è una persona che a mio parere esprime dei concetti che personalmente trovo molto affine il mio modo di pensare ma sta cioè sta venendo ostracizzato ostracizzato poi ostracizzato però questa è una cosa di cui dobbiamo parlare quando avremo documentazioni sufficienti perché non voglio iniziare una discussione sul nulla a proposito di nulla parliamo di Italia Italia con la I piccola direi con la I minuscola sottolineo allora eh il tema principale di questa sera è la mitologia perché la mitologia perché parleremo di creature col corpo da uomini e le teste di cazzo di cazzo e lo diciamo qui avvertamente davanti a tutti perché chi legge chi legge i giornali diciamo e chi legge i giornali quotidiani online saprà che in questo momento in atto in Italia ha una crisi di governo almeno così dicono ok ora non so quanto tu guardi la televisione molto poco ma sei una persona fortunata allora perché ti perdi un po' di pagliacciate che stiamo vedendo in questo momento allora in questo momento in Italia siamo vittime diciamo di un partito minuscolo vittime di un partito minuscolo che sta tenendo sotto scacco il governo centrale per chi non è la maggioranza di governo ora il discorso farò un discorso che non è da laureato in scienze politiche ovviamente non è questo il mio intento è solo per farci capire che noi in piena crisi pandemica stiamo assistendo a quattro gatti letteralmente che stanno tenendo per le palle un governo che vabbè su quale stendiamo un velo pietoso un velo pietoso e soprattutto volevo anche esporre un paio di punti che mi danno fastidio e li voglio dire perché magari la prossima volta che vedrete un programma di approfondimento politico ci riflettere e direte ah cazzo è vero effettivamente effettivamente lo fanno i politici lo fanno allora innanzitutto non so se avete mai visto un programma di approfondimento politico qualsiasi se mettete sulla 7 a qualsiasi ora ce n'è uno per esempio e noterete che il politico medio in particolare in questo momento è stato intervistato soltanto quelli d'Italia Viva perché ovviamente sono per ora sulla cresta dell'onda senza motivo ricordiamocelo perché non dimentichiamola questa cosa però se voi notate quando gli fanno una domanda e gli chiedono sì o no la risposta non è mai sì o no non so se potete essere accorti di questa cosa la risposta non è mai sì o no quando ti domandano ma ve lo volete fare cadere il governo la risposta è è però la nostra intenzione è di andare avanti però e comincia a sciuare da tutte le parti ora io dico una cosa è un po' come quando vai da un fruttivendolo e e non ti sa rispondere e ti dice ma tipo ce l'avete ce l'avete i meloni ma non lo so vediamo cioè capisci io direi dei delle anguri dei noti fruttivendoli dei noti fruttivendoli fin troppo noti ora io a parte sparare addosso a Renzi è fin troppo facile ok perché insomma mi sembra di sparare un po' sulla croce rossa anche perché tutti lo stanno insultando quindi a me non piace bersagliare quelli che stanno insultando tutti oggi per esempio me la voglio prendere con con la ministra Bellanova sai chi è la ministra Bellanova? è la ministra dell'agricoltura delle politiche agricole se non sbaglio è il nome del di Castero aspetta ma l'istituto quello dove si fa l'agrario 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 una volta si dicevano si dicevano per prendere in giro si diceva che l'agrario si diceva l'agrario se è una scuola fatta bene e organizzata potrebbe essere un bell'istituto in realtà anche perché secondo me io sono un fermo sostenitore di questo che l'agricoltura sarà il lavoro del futuro si lo penso anch'io infatti io su questo volevo fare delle ricerche perché secondo me ci sarà una rivoluzione sull'agricoltura mi fa piacere che tu l'abbia mi fa piacere che tu l'abbia detto sarà una persona che si occupa non di vendere frutta e verdura anzi no non chi vende frutta e verdura ma chi ha il negozio di frutta e verdura qui non ci deve venire esatto un noto negozio di frutta e verdura qui non lo vogliamo non metterà mai piede mai perché noi siamo antifruttariani antivegani mai mai più mai più e diciamo un noto un noto programma un noto programma allora la domanda che faccio io ai miei ascoltatori ai nostri ascoltatori anche se noi parliamo al singolare perché siamo un'identità come articolo 21 la mia domanda è la seguente può un partito infimo che conta quanto non lo so quanto può quanto io conto a casa mia poco ve lo dico non ho capito dico può un partito che non conta un cazzo tenere sotto scacco un governo nazionale questa è la mia domanda a proposito di Renzi io credo ci siano dei video di Renzi che parla in inglese che è la cosa che probabilmente ha la maggior parte delle persone che ci sta seguendo che si guarderà il video che ascolterà il podcast tutto quello che è forse è la cosa che gli interessa di più un Renzi che parla inglese adesso lo cerco ma noi possiamo anche guardarlo francamente si fa ridere diciamo fa ridere ma fa anche riflettere questo ci tengo a dirlo lo metterò immediatamente perché mi sembra doveroso per il pubblico esatto comunque mi piacerebbe che gli ascoltatori i viewers facessero questa riflessione considerando che le persone stanno morendo negli ospedali e noi abbiamo questa situazione di questi pagliacci assoluti che fanno tutto tranne che prendere decisioni hanno il suo famoso recovery fund che devono spendere non sanno come lo devono spendere è come se sembro io quando mi davano 100 euro in più rispetto a quelli che mi aspettavano nella busta paga non sapevo come spenderli non lo so e compravo cose inutili ecco in questo modo qua comunque mi facciamo vedere questo tra l'altro la la miniatura l'anteprima di questo video ci fa dice già tanto ci farà impazzire vabbè fai i play e basta io non lo sento aspetta allora sempre perché a noi questo genere di problemi no 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 ma si sente in 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 live si sentiva ok allora sentitelo in live anche se invece è tutto metallico comunque la giornalista guarda internet detto tra l'unico e l'unico per il futuro perché siamo i migliori amici per i prossimi anni e in particolo podcast news io credo che già gli abbia fatto la domanda sbagliata questa ho detto ma se non sei parlare in inglese perché lo fai tipo è lui che cosa risponderebbe secondo te un tizio non ho idea sono voloso di saperlo comunque credo che non sia questo il video che volevo fare vedere ma Renzi fan english vediamo se lo troviamo Renzi yeah Renzi il signor Renzi allora vediamo eccolo qua forse facciamo vedere con i sottotitoli tra l'altro lo facciamo vedere eccolo qua signor Renzi forse reaction shock shock because in our mind everything is totally connected with first reaction shock 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 because in our mind because it's totally connected with love 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 because shock shock because in our mind everything is totally connected with because in our mind everything is totally connected with because in our mind everything is totally connected with UK because 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 force reaction shock non ce la faccio più non ce la faccio più allora basta vi prego basta ti ti segnalo che mi si sente metallico ma si sentiva metallico anche il video quindi potrebbe essere che ti si imbomba a te nel può essere nelle casse mentre si rientra scochi entro scochi entro scochi entro scochi eccovi ok vediamo però parlare però la prova prova la prova la prova la prova la problema si sente bene si sente bene Comunque La Juve ha fatto il 3 a 2 Non ti posso interessare? No guarda ce l'ho qua dietro e onestamente Sono così incazzato questa sera Se ne passa Minchia Occhio c'è una sub Giovanna Perna C'è chi sia? Che ringraziamo Che ringraziamo Tra l'altro facciamo un po' più piccola questa chat Ok così magari vediamo Pure Il tutto Allora io avevo fatto una raccolta oggi di news Di news eccola qua Sì ho visto una raccolta di news Allora quindi la polemica Riguardante Questa fantomatica Crisi di governo Che non conviene a nessuno La chiudiamo direi Perché già abbiamo fatto ridere abbastanza Diciamo che Comunque non gliene frega un cazzo a nessuno Beh diciamo che io Quello che vorrei che le persone interessassero Vorrei che le persone capissero Che la politica non è affidabile Come fautrice del nostro futuro Questo è fondamentale da capire Fortunatamente siamo in un paese Che ha determinate libertà di Di impresa Di pensiero Eccetera eccetera Quindi io fortunatamente Posso costruire il mio futuro Senza che un governo Lo condizioni Perché se mi dovesse affidare Alla politica che abbiamo qui Probabilmente Potremmo Levarci Ma potremmo Potremmo Manlevare Diciamo Sì sì è una politica Ma guarda io sono ignorantissimo di politica Veramente tantissimo Ma perché mi porta a disinteressarmi Della politica stessa La politica che c'è in Italia Esatto esatto È un deterrente di se stessa Ma credo che sia Allora prima Prima di Di cominciare L'analisi delle notizie Io volevo Far vedere Una cosa Che ci tengo A far conoscere Insomma Ora vediamo se un attimino Riesco a Caricare La politica è solo un appendice Del nuovo ordine mondiale Io sono d'accordo Ragazzi Allora Sto condividendo il mio schermo Sto condividendo il mio schermo Ok Sostengo Perché volevo 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 promuovere Uno strumento Che ritengo Insomma Ritengo rivoluzionare È un'invenzione Ammetto che sto facendo pubblicità Però è un'invenzione straordinaria Lo vediamo adesso Una pubblicità Ecco qui Sto pubblicizzando Si vede? Si vede? È un leone da tastiere Fantastico Vede? È comodissimo Potete appoggiarci la vostra tastiera È ergonomico La tastiera non scivola E se qualcuno prova a rubarvela Può mordere In tentativo di furto Esatto Era anche coloradissima La tastiera Come il Pono Il Pono Pomellato Il Pono Pomellato Questo è un video Che magari dopo mettiamo Quindi mi fa piacere Pubblicizzare questa invenzione Che è straordinaria Quindi Non abbiate più paura Dei leoni da tastiera Perché Ce ne sono di varie forme E vari colori Sono utilissimi Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie Daniele Per questa Per questa splendida pubblicità Puoi scondividere lo schermo? L'ho scondiviso Ok L'ho scondito Ok Ci siamo Suono di grilli Niente Leggiamo un attimino Questa Questa cosa Che magari può interessare A qualcuno Assolutamente Allora È successo O perlomeno Mi è arrivata la notifica Poco fa Poco fa Che la Lituania Sospende Le vaccinazioni Con preparato Pfizer e BioNTech Tu lo sai qual è Il Pfizer e BioNTech? Sicuramente Sono le più Importanti Delle aziende Produttrici Il ministero della salute Lituano Ha ricevuto informazioni Secondo cui Potrebbero esserci state Alterazioni Nella temperatura Durante il trasporto Dei vaccini Verso i centri Di coordinamento La clinica Kaunas Dell'università Lituana Di scienze Della salute E l'ospedale Pane Vezis Che sembrano Veramente un pane Un tipo di Riporta Uno di quei panni Senza sale Oppure non lievitati Il pane Vezis Il lotto Quindi praticamente Quindi praticamente Quello che stanno dicendo È che Essendo che ci potrebbero essere Delle alterazioni Nella temperatura Il vaccino potrebbe Non essere Integro Questo è il discoteco Perché l'hanno L'hanno Insomma L'hanno sospeso Quindi Qui per esempio Questo è un caso Di notizia Questo è un caso Secondo me Di clickbite Perché Danno la notizia Come se La Lituania Non si fidasse Di vaccini Ma in realtà Non è così Il ministero Il ministero Della salute Aspetta Il ministero Della salute Ha immediatamente Notificato La sospensione Temporanea Della vaccinazione Con questo lotto Di vaccini L'agenzia statale Per il controllo Dei medicinali Ha il compito Di verificare Se il vaccino È stato Influenzato Dalle fluttuazioni Di temperatura Se il vaccino Si fa influenzare Siamo fregati Durante il trasporto Le violazioni Dei requisiti Di trasporto Del vaccino Sono state segnalate Anche al rappresentante Della società Pfizer in Lituania Ma io onestamente Io non so Chi cazzo è La Pfizer Cioè di voi Lo sento dire Solamente Nei dei giornali Sono nomi Fra noi Detto fra noi Io non so Chi è la Pfizer E vediamo Se c'è qualcuno Che ce lo può spiegare Pfff Poi c'è Moderna E forse Forse anche AstraZeneca Può essere Allora vediamo Vediamo Chi e dove E quando Vaccini No Covid Aspetta Facciamo una cosa Ora condivido Direttamente Questa mia ricerca Che sto facendo In questo momento Con tutti E vediamo Di trovare Io Onestamente Voglio Trovare Troviamo Chi cazzo È Pfizer Il signor Il signor Il signor Pfizer Perché mi sembra Un nome Onestamente Molto Da noi Perché lo cerchi Su YouTube Si sembra Un GRH Uno delle SS Però Cerchiamo L'altrove Vediamo Vediamo Che minchia è Quindi Pfizer Allora è un'azienda Di statunitense Che è la più grande Aspetta Aspetta Andiamo direttamente Anche su Sulle loro Bella pagina Ok Ci siamo Ci siamo quasi Ok Allora In generale Pfizer È la più grande Società del mondo Operante Nel settore Della ricerca Ragazzi Siamo Se capisci Quanto stiamo volando Stiamo volando Si collega tutto All'ordine mondiale Esatto Il nuovo Ordine mondiale Ragazzi Che La teoria Del nuovo Ordine mondiale Questo momento Sta unendo Esattamente Vabbè La politica Le figure Di spicco Che ci sono In questo momento Bill Gates Rob Minchia si chiama Soros Soros Nomi Nomi che forse Non possiamo neanche dire Che rischiamo il ban Se diciamo Questi nomi Potenti Ci tengo a salutare Ci tengo a salutare Wise Ariosto Che è in linea con noi Ci tengo a salutare Wise Ariosto Perché lui è un artista Se tu hai Discord E ti vuoi unire con noi Lo puoi fare tranquillamente Ci facciamo quattro chiacchiere noi Stavo dicendo che La teoria del nuovo Ordine mondiale Sta unendo Questa grande società Operante nel settore Della ricerca Le più grandi potenze Economiche Che ci sono in questo momento Le più grandi potenze Ortofrutticole Forfrutticole Tra i quali Lucese Tra i quali Gente Che banna Ma E Ti vedo nervoso Ti vedo nervoso Non so Il nuovo ordine mondiale Ragazzi Il nuovo ordine mondiale C'è una domanda C'è una domanda Di un certo Francesco Carna Non so chi sia Che chiede Chi sono gli azionisti Di Pfizer Tu sai chi sono gli azionisti Sai chi sono gli Gli stockholders Come si chiamano Shareholders Mi sentono poco Allora Ora mi alzo No 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 Eri un po' lontano Forse prima dal microfono Mi hanno detto proprio Filippo ti si sente poco Quindi Sicuramente hanno ragione Allora Arrivo subito ragazzi I colossi dell'ortofrutta I colossi dell'ortofrutta I colossi dell'ortofrutta Lanciano Uno strale Si vuol dire uno strale Lo scrivo anche in chat Così Quindi una saetta Praticamente Nei confronti Della libertà di pensiero Le aree Terapeutiche Strategiche Di Pfizer Sono Antinfettiva Cardiovascolare Urologia Sistema nervoso centrale Trattamento Del dolore Infiammazioni Endocrinologia Ortofrutta E oncologia Incredibile Grazie Incredibile L'ortofrutta Tutto quello che in questo momento È Tutto Tutto Tutti Gli affari Tutto Anche tutto Lo scibile Del mondo Possiamo dire Tutto È dominato Da queste lobby Meraviglioso 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 È tutto Molto meraviglioso Tra l'altro Bene Pfizer È iniziata Nel dopoguerra Anzi no L'azienda Pfizer Nacqua nel 1849 Attenzione Credibile Quindi siamo In era Massonica Quando i cucini Perché c'è un'era Massonica Lo so Di origine Tetesca Quindi sono Teteschi Mi fanno riflettere Dicendo Quindi chiunque Abbia un raffreddore O la minchia Deve avere a che fare Con Pfizer Perché Justamente Anche gli endocrinologi Mi sento Anche gli urologi Gli urologi Gli urologi Poi in particolare Gli urologi Assolutamente Leggiamo Finiamo di leggere tutto Questo che è molto interessante Allora Iniziano nel loro commercio Di prodotti chimici E ortofrutticoli Con l'allora creazione Della Charles Pfizer And Company Ortofrutt Off Petrusino In un edificio Nell'angolo Fra Harrison Avenue E Bullet Treat And Marina Garibaldi Il mio slang Il mio slang Inglese Sicuramente Nettamente superiore A quello Dell'attuale leader Di Italia Morta L'ho 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 Assunto Con un passato Di verdure Che Io Lo consiglio a tutti Se voi Volete Imparare L'inglese Fatevi Un passato Di verdure Di Carote Zucca E Salsiccia E Salsiccia E Pfizer Comunque E acido Eventualmente Gli potete fare Anche una grattatina Di acido citrico Volendo Sì Anche muriatico Se volete Un effetto Più Comunque Più urgente Più urgente Pfizer Continua a comprare Varie proprietà Per espandere Il suo Laboratorio Di ortofrutta Ovviamente Sul quartiere Compreso tra Bethlehem E Street Siamo anche In epoca Nel sacro Siamo nel sacro Siamo nel sacro Harrison Avenue Jerry Street E Flushin Avenue Sembra Io ogni tanto Quando leggo Eve Mi viene Avengers Quando è Avenue Quindi avete capito Adesso chi è Pfizer Incredibile Ragazzi Un colosso Siamo davanti a un colosso Clamoroso Clamoroso Un colosso Farmaceutico E ortofruttico E ortofruttico Clamoroso Una lobby Incontrastabile Allora Adesso Avevo promesso Una piccola cosina Che ti ho condiviso Anche Ora la metto Il video Del ponopo Mellato Avevo promesso Ottimo Perché giustamente Abbiamo fatto Tre cose Spogati che fa bene Infatti ragazzi Io dico solo una cosa Io Non ci sto Lo dico a favore Di telecamera Io Non ci sto Basta Giù le mani Giù le mani Giù le mani Dalla libertà 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 E vaffanculo Ecco Libero di un vaffanculo Non si può dire Non si può dire Perché Abbiamo delle lobby Non diciamo niente Non diciamo niente Però Però abbiamo detto tutto Ora io vi voglio leggere L'articolo 21 Dal quale noi abbiamo preso Il nome Di questo podcast Bravissimo Perché Ricordiamoci anche Perché ci chiamiamo così Sì Magari La gente Non lo sa nemmeno Perché forse Non l'abbiamo nemmeno spiegato Forse Forse Pensano che noi siamo Degli articolo 31 Che non ce l'hanno fatta Sì Infatti Invece no Invece non abbiamo Nulla a che fare con Noi non siamo Una zona Gialla Con Noi siamo Una zona Verde Noi siamo Però verde Mi ricorda molto L'ortofrutta Però Allora passiamo Una zona Una zona In colore Va bene Come il trasparente Come l'acqua Va bene Mi piace Opacità 0% Opacità 0% Allora Dal senato Punto it Chi è Non è che ora Non si sbaglia ragazzi Mica il bar Punto it Cioè il senato E dico tutti Hanno diritto Di manifestare Liberamente Il proprio pensiero Con la parola Lo scritto E ogni altro Mezzo di diffusione La stampa Non può essere Soggetta Ad autorizzazione E censura Allora Premetto una cosa Sì sì Questo 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 Secondo Rigo È stato Completamente Oggi Oggi Pensate che Questo Questo Rigo È il nostro Culo E noi Siamo stati Svestiti Svestiti Il nostro Culo È stato Svestiti Siamo stati Denudati Denudati Ci sono state Strappate Le vesti Ammorsi Strappate Via Divelte Come fossimo Delle bestie Come se fossimo Degli ergastolani O dei decapitati Come disse Come disse Qualcuno Siamo stati Svestiti E denudati Dalle nostre Braghe Per poi Per poi Io vi invito A pensare Stati Lubrificati Avidamente E poi Penetrati Con violenza Questo è brutto Però io Invito a chi In chat A non pensare A noi Denudati Ma alla Dea Libertà Denudata La libertà Ragazzi La libertà Aspetta Abbiamo perso L'articolo 21 Noi non vogliamo Fare vedere Pfizer Non ce ne frega Un cazzo Della Pfizer Era semplicemente Un modo per Un tentativo Quindi stai dicendo Che non ti interessa Di un'azienda Che produce No no Era un tentativo Per farmi sbollire La rabbia Tu per caso Sei un complottista Sei per caso Era un tentativo Per farmi sbollire La rabbia Sei un negazionista Per caso Dovrò lavorare Io molto Sulla gestione Della rabbia Sull'aspetto Della rabbia Perché quando ci sono Cose ingiuste Io sono Il primo Che si batte Purtroppo Anche male Perché lo dovrei fare In modo Più pacifico Ma Più pungente Però questa è l'Italia Questa è l'Italia Tra l'altro L'articolo 21 Da dove è uscito Vuol dire Noi abbiamo cercato Anzi no A noi piace tantissimo Un podcast Che ascoltiamo Io ascolto Perlomeno giornalmente Che si chiama La Zanzara La Zanzara La Zanzara La Zanzara è quel podcast Che è come una Zanzara Di da fastidio Ai poteri giganti I poteri giganti Sembrano Sembrano Dei personaggi Di Power Rangers Ai poteri Potenti No Nessun altro I poteri giganti Da fastidio ai poteri giganti Dice la verità Senza peli sulla lingua Senza censure Di nessun tipo Però Però a un certo punto Noi abbiamo fatto Abbiamo preso una decisione In questo Noi abbiamo fatto Diciamolo Anche se magari Non si scoprirà mai Ma Noi abbiamo fatto Due puntate prima Due Non diremo Una Una e due Non diremo nulla Su queste due puntate A parte la prima Altre due puntate Non diremo Che cosa è accaduto In queste due puntate Perché Abbiamo fatto una promessa A una persona Però Siamo stati Demudati Della nostra Libertà Dalla nostra Libertà Ragazzi Sì lo possiamo dire La libertà è un diritto Di tutti E combattete Sempre per la vostra libertà Libertà di parola Libertà di Di critica Di espressione Di pensiero Di pensiero Di tutto Libertà E soprattutto Libertà Di non farsi Schiacciare Da Da Strategie Ricatti Atteggiamenti Vivi Perché questa È pura Vilezza Che si dica Come si dice Perché queste parole Fortunatamente Non le uso mai Uso parole come Gratitudine Gioia Speranza Ok Quindi io uso Altre Quindi io uso altre Divi di parole Però sicuramente In chat mi aiuteranno In questo senso Mi diranno il termine Giusto Speranza È un termine Che oggi Oggi va di moda È un grande Hashtag Speranza Perché credo Che sia anche Il nome di un ministro Quindi Che il ministro della salute Se il ministro della salute Già si chiama Speranza Ora voglio dire Dico almeno Si chiamasse Sicurezza Certezza Dico Speranza Dico Non Speriamo Che ci parla di culo Diciamo Mi sono un po' incazzato Oggi Lo so Lo so Oggi Ora adesso In questo momento Mi sento un po' meglio Anche se Però ti volevo ringraziare Ti volevo ringraziare Perché lo hai fatto Ma senza Senza andare di matto Sei stato comunque Civile Perché In realtà Si risponde a questo Con la civiltà Sempre Si 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 Ma è una cosa Sulla quale Io ci sto lavorando Credo Tu mi conosca Io di solito Mi difendo bene Mi difendo troppo Abbastanza Sotto quella pelpa gialla Ci sono degli artigli Però sto cercando Però in realtà Io non credo Che sia parte Del mio essere Quanto sia Una Una sorta di Difesa Un Certo Come diceva Come diceva Viver vendetta Io sono il prodotto Di ciò che mi è stato fatto Esatto Si può dire Si può dire Noi siamo Noi siamo In continua evoluzione Guarda i chat Comunque Non credi di migliorarci È normale il nervosismo Visto che ieri ti sei Lungamente trattenuto Tra l'altro Tra l'altro Questa mattina Volevo dire Che È mancata l'acqua Ma anche questa mattina Quindi ho ottenuto Tutto ieri E questa mattina Come cazzo hai fatto Come cazzo hai fatto Stava esplodendo Infatti oggi sono andato Circa quattro volte In bagno Io posso Staventare Avrei cagato In un sacco nero E l'avrei buttata Nell'umido Francamente Vabbè Ma ho cercato Di resistere Tra l'altro Ma sei un signore Però in realtà Ecco Se tu ci pensi C'è gente che magari Avrebbe potuto resistere Benissimo Senza soffrire Questo È Probabilmente Un aspetto mio Psicologico Per il quale io Quando ho una cosa dentro Devo espellerla Come la rabbia O la cacca Come la felicità Perché Diventi stitico Tra l'altro Gianlucheo Si è appena Si è appena È un ragazzo Che si è appena laureato Che tra l'altro Se vuole Io lo inviterei Qui con noi A parlare Sì Assolutamente Assolutamente Sì Siamo Sempre Se vuole Basta scaricare L'applicazione Discord E darci Il suo nick Oppure gli diamo Il nostro A lui Esatto Esattamente Ovviamente Se lungi da noi Vuole pubblicizzare Questa app Di Video streaming Di video Come si chiama Video chat Non vogliamo Per carità Per carità Non so se si può dire Ci sono delle novità Riguardo Quello che stavi dicendo C'è una nota applicazione Sicuramente Tutti Conoscete Che si chiama Telegram Che io utilizzo Per qualsiasi cosa E Aspettate un attimo Quindi Eccolo qua Eccolo qua Eh sì Accettiamo tutto Accettiamo tutto Vogliamo accettare tutto Ok Anza Con cambio privacy Whatsapp Boom Telegram Più 25 milioni di utenti In Ora Ora lo leggiamo Impennata Allora Messaggistica Telegram Dopo la notizia Della modifica Di Whatsapp Ai suoi termini Della privacy A partire dall'otto Febbraio Tra l'altro Noi non lo sappiamo Che cos'è Che cosa succede Sì Infatti Ti volevo dire Ti volevo dire Questa cosa Questo argomento Sarà tema Probabilmente Di una live E io spererei Magari di parlarne In qualcuno Che ne è più esperto Però io ci farei Una live apposta Perché questo Possiamo cominciare A leggere qualcosa Allora In modificata Di Whatsapp Ai suoi termini Della privacy A partire dall'otto Febbraio Che non interessa Però l'Italia E l'Europa Dove vige Dal 2018 Il GDPR Sì Questo qua Effettivamente è vero Il regolamento europeo Sulla protezione Dei dati personali Telegram Ha registrato 25 milioni Di nuovi utenti Nelle ultime 72 ore Come ha dichiarato Il suo fondatore Nato in Russia Pavel Durov Angelo Durov L'app aveva Oltre 500 milioni Di utenti Attivi mensilmente Nelle prime Settimane di gennaio Whatsapp Ne ha 2 miliardi Chi ha che numeri Nuovo ordine mondiale Anche questo Questo Sì La lobby Della messaggistica Istantanea E 25 milioni Di nuovi utenti Si sono iscritti A Telegram Solo nelle ultime 72 ore 25 milioni Di utenti Noi abbiamo fatto In 72 ore E 50 visualizzazioni Io vorrei capire Adesso C'è l'articolo 21 podcast E Telegram Si Qual è il loro segreto Perché noi Portiamo contenuti Forse perché Forse perché Siamo nati Da circa una settimana Potrebbe essere quello Vado a intuito Vado a fiuto Diciamo Ha specificato Durov Le persone Non vogliono più Scambiare la loro privacy Con servizi gratuiti In chi è pazzesco Cioè noi parliamo Di libertà Interviene Durov Duramente Durov Take el Durov Per il fondatore Di Telegram L'app è diventata Il più grande Rifugio Per chi cerca Una piattaforma Di comunicazione Privata E sicura Cosa che Sicuramente Non è vero E ha assicurato Ai nuovi utenti Che il suo team Prende molto Sul serio Molto sul serio Questa responsabilità Un'altra app Che ha reagito Che ha registrato Un'impennata Di download Nei negozi digitali Dopo le critiche A Whatsapp E Signal Ah è Signal E Signal Che tra l'altro Io ho visto utilizzare In un telefilm Che si chiama Mister Robot Che consiglio Di vedere a tutti Dove utilizzavano Per scambiarsi Messaggi Gli hacker Per scambiarsi Messaggi Sì perché è un'app Particolarmente Criptata Però qui Allora adesso Quello che stai per leggere È una notizia Falsa Quello che stai per leggere Adesso Che in realtà Io No 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 Che Elon Musk Non ha raccomandato Signal Parlava di un altro Signal E lui è stato scambiato Cioè è stato Frainteso Sì 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 Ora leggi Leggi raccomandato Anche da Elon Musk Ma non è vero Perché in realtà Lui Ha raccomandato Un'altra Signal Che è un'altra azienda E le persone Hanno capito Signal E hanno scaricato Questo Signal A qualche 25 milioni Non so quanti milioni Quindi pensa Per un fraintendimento Aspetta Aspetta Non ho capito Quindi Elon Musk Chi ha detto? Elon Musk Ha detto di affidarsi A un'azienda Che si chiama Signal Qualcosa Signal Però No 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 Sempre Signal Solo che È un'altra Un'altra società Non c'entra niente Con Signal L'app Probabilmente Questa è la pubblicità Non voluta Più enorme Di potete Del secolo Probabilmente Probabilmente Esatto 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 Ora io con la condivido Questa però Immagini Signal Che cosa Come ne ho stappato Tipo Sì 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 Ti condivido il mio schermo Sì fai tu Diremi se si vede Ovviamente Aspetta Tolgo il mio Eccolo Si vede bene Si accetta tutto Leggete sulla prima Si vaffanculo Gli investitori Sbagliano Vai Leggi tu Incredibile scivolare Dei grandi investitori in borsa Perché il titolo È fondamentale È bellissimo Elon Musk Consiglia Signal Ma gli investitori Sbagliano tutto Incredibile scivolare Dei grandi investitori in borsa Lo riporta il quotidiano MF Dopo che Elon Musk Ha consigliato tutti Di lasciare Whatsapp Per postarsi Sull'app Signal Strappo in borsa Per il titolo Signal Advance Che ha sicuramente Quel nome Ma non c'entra nulla Con l'app Di messaggistica consigliata Producono infatti Dispositivi medici Per rilevare anomalie Fisiche e mentali Ecco forse A chi è corso A buttare i migliori Sul titolo sbagliato Uno di quei dispositivi Sulle anomalie mentali Potrebbe essere utile Quindi è il contrario Lui ha consigliato Veramente Signal Però Cioè Pensavo fosse il contrario Infatti guarda la faccia Pensavo fosse Pensavo fosse il contrario Sì infatti Quindi lui Può ingrandire La faccia di Elon Musk Sì Oh Sì Ah Ti immagino Il signor Signal Quindi Quindi praticamente Attenzione Mi sono sbagliato Io chiedo Scusa Perché avevo letto male Anche allora La notizia ai suoi tempi Quindi lui ha realmente Consigliato l'app Signal Però le persone Hanno investito Su Signal Advance Quindi è È stato esattamente Il contrario Vabbè Comunque è stato sempre Un caso di un alfabetismo Funzionale Sì Ok Quindi fantastico ragazzi Scrivono dalla chat Scrivono dalla chat Scrivono Metti caso Che domani Fanno la riforma All'articolo 21 E voi diventate famosi Arriva da quel punto Comunque noi siamo pronti Noi siamo pronti La seconda riforma Né che cosa Io voglio leggere una cosa Che qui Vai Il covid Il secondo te il covid Ha penalizzato l'ortofrutta O in realtà l'ha potenziato Perché a me sembra Che con questa cosa Che ci è Che è successa Allora io Ti posso dire la mia Però ti dico la mia Secondo me C'è stato In questi giorni Soprattutto un forte Depotenziamento Della forza lavoro Secondo me Poi io Sono un esperto Di analisi di mercato Fortissimo Anche e soprattutto Perché Quando ci sono persone Valide che lavorano E non possono lavorare Esatto Con cortofrutta Giovamento Covid Voglio scrivere su google Eccolo qua Un Già fa ridere Come si chiama il sito Fruitbookmagazine.it Aspetta un attimo Se lo fai vedere anche a noi Facciamo leggere tutto Facciamo leggere tutto Perché le persone devono sapere Dove vanno a coprire la frutta Allora Non so se hai letto Ortofrutta Abbattuta dal coronavirus Il punto Commazzini Di Coppa Italia Boom Il covid-19 Sta impattando Pesantemente Sulle abitudini Di acquisto e consumo Degli italiani Con la i piccola Italiani Italiani Nella settimana Del lockdown L'ortofrutta In generale Ha registrato una dinamica positiva In termini di volume Mentre sui prezzi Produttori Si sono dovuti Accontentare Di una pacca sulle spalle Vecchia Dinamica positiva Che è stata più Accentuata Per i prodotti A maggior valore Salutistico Per percepito Per i prodotti Da stock A più lunga Conservabilità Certo E' normale Che è una cosa Che Io devo fare una cosa Perché Prego Faccia Che sta a fa' Ha quittato Eccolo C'era Come cazzo Si chiama Porta a porta Comunque Chi c'è a porta a porta Non lo so ragazzi Non lo so Ma mi sta dando fastidio Vabbè C'è Bruno Maestro almeno Si credo di si Stavo dicendo Maurizio Mosca Maurizio Mosca E' morto Da 20 anni Credo Si è bloccato Daniele Ottimo Giusto perché Noi Non vogliamo farci Mancare mai nulla E Comunque Continuiamo a leggere Questo favoloso Andiamo Vaghiamo Nel mondo Dell'ortofrutta Ecco qua No Non è questo Ma 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 Eccolo qua Facciamolo vedere Facciamolo vedere Usciamo quest'ortofrutta Ecco qua Dinamica positiva Che è stata più accentuata Per i prodotti A maggior valore Salutistico Percepito E per i propri prodotti Da stock A più lunga conservabilità La settimana Post lockdown Quindi questa è una Infatti Aggiornata al 26 agosto 2020 Quindi è una Da un paio di anni Un paio di mesi fa Sei mesi fa Allora La settimana post covid Non hanno modificato radicalmente Questa dinamica Piuttosto Accentuato Il trend negativo Di alcune categorie di prodotti Il punto con Claudio Mazzini Responsabile commerciale Settore franchising Di Coppa Italia Comunque tra l'altro Io vorrei Tanto sapere Che cosa Cazzo È successo Al signor Internet KO Mi dice Daniele Ottimo Ottimo direi Ottimo Ottimo direi Allora Scrivetemelo Scrivetemelo Mentre io Continuo a leggervi Questa notizia Vediamo se Ecco Eccolo qua Ecco Questa cosa Sull'ortofrutta Così ce la togliamo Dai coglioni Per favore Rampar Eh sì Eh sì Io Guarda Ti capisco Allora E' frustrante Chi è questo uomo Claudio Mazzini Di Coppa Italia Coppa Italia Copyright Tra l'altro Bene Quindi Basta Direi Direi che abbiamo fatto Abbastanza per oggi Che dici Abbiamo fatto un bel Buco nell'acqua Anzi un buco Un buco nel culo Nell'ortofrutta Ok Quindi Eh Sì Allora L'incertezza economica Del coronavirus Cosa nuova Che scrivono Che dovrebbe sfociare In autunno Nella maggior Nella peggior crisi globale Della seconda guerra Grazie per avercelo detto Freud magazine book In the wagon Con un pacco da 500 grammi Di pasta asciutta Mangiamo 5 persone Ma quando mai Ti mangio io 500 grammi E' totalmente opinabile Assolutamente Falso A partire da 50 centesimi di euro In che senso In che senso Cosa vi comprate All'ortofrutta E la signora Anna Ruvolo Ci dice Mele e banane Che cose te ne fai Delle mele e banane Rispondo Con che finiamo Di leggere Questa notizia Del secolo Allora Quindi Non c'è melone O nettarina Sembra 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 una poesia Non c'è melone Né Né tarina Che rega il confronto Della melina In più la pasta E mediante Sempre buona Mediamente Ah beh Però Un prodotto industriale Standardizzato Che dura In dispensa 24 mesi Niente Non faceva rima L'ortofrutta Dura poco E sarà O E sarà un buon mangiare Poi Ho difficoltà A leggerlo Si chiede Si chiede Fruitbook magazine La domanda In questo sito E dura Aspetta L'ortofrutta dura poco E sarà un buon mangiare Poi Ma 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 Lo diciamo noi Però Quindi stanno dicendo Che l'ortofrutta Dura poco E poi si chiedono Se sarà un buon Buon cibo Cioè La pasta Peno male Quella È standardizzata Invece la frutta Magari Può subire Le variazioni Lo si scopre Lo si scopre Solo quando è ora Di metterle in bocca No no Però scusa Questa frase Mi dissocio Io Io Signor Fruitbook magazine Io Io chiederei Io chiederei Chiederei un attimino Il var Su questa cosa Alzo le mani Signor FM Fruitbook magazine Tra l'altro Tutte quelle banane Cioè voglio dire Sare Frutta in bocca Frutta in bocca E facilmente Insomma Credo sia voluto Io spero di no È la categoria Di alimenti Qualitativamente Più inaffidabili In assoluto Io non ho capito niente Di quello che ho letto Non so se tu hai capito Allora io direi di chiudere Perché ci stiamo Pottendo il cervello Con questa roba Deve se dire comunque Che l'ortofrutta Sta soffrendo Perché La frutta Si Si decompone Velocemente E non è E non è Garantibile La qualità Invece la pasta Sì perché la fai E la metti 24 mesi La puoi conservare E vaffanculo Penso vogliono dire questo Tra l'altro Annarulo ha scritto Che Spende una media Di 25 euro A settimana 100 euro Al mese Quando il mese È composto Da 4 settimane Tu quanto spendi Dall'ortofrutta Daniel Io Questa domanda Potrebbe Potrebbe Determinare La tua permanenza Nell'articolo 21 podcast Tra l'altro E io ti darò Una risposta Che è la verità Che qui Mi salva Da qualsiasi Diatriba Da qualsiasi Anche denuncia Esposto Eccetera Eccetera Che non Non compro io La frutta a casa Non compro la frutta Però posso Se vuoi posso procurarti Qualcuno a casa mia Che la compra Quindi Poi magari faremo Una live apposta Sui consumi di frutta Nelle famiglie Comunque ragazzi Siamo Siamo un po' dispiaciuti Oggi Ma è inutile Che ci giriamo in torno Siamo seccati Tu che dici? Sì Siamo un po' seccati Io Comunque Viva il libero pensiero E abbasso Le lobby E abbasso Gli atteggiamenti Intimidatori Non voglio dire Alcune altre parole Perché potrei essere Bannato Ok Forse no Però Non le dico Però quando ho detto Intimidatori Ci siamo capiti Penso che ci siamo capiti Non puoi essere bannato Per questo E via la libertà E soprattutto La libertà Praticamente Io credo Che nel momento In cui tu ledi Con il tuo Con la tua violenza Verbale O comunque Ledi qualcuno E lì finisce La libertà Perciò La libertà In toto La libertà Sta nel poter dire Quello che si pensa Nel poter ascoltare Chi ti sta dicendo Qualcosa E E niente ragazzi Però La nostra questione Non riguarda Tanto la libertà Di poter dire qualcosa Ma è La liber È ledere La libertà Del singolo individuo Preso come singola persona Tra l'altro Tu Con questi occhiali In questo momento Ma Perché io Posso Ho la libertà Di mettermi Dei ridicoli Occhiali marroni In live Posso mettermi Io un cappello Di paglia Certo che puoi Assolutamente Possiamo farlo A patto che non sia Paglia proveniente Da Da Maltrattamenti Di animali Paglia vera Nessuna paglia È stata maltrattata Nessun Gomitolo Come si chiamano Una balla Di paglia Una balla Quindi A balla di fieno Libere Qui non si tratta Di censura Del nudo Qui si tratta Di censura Del nudo Pensiero Questo è No In realtà In realtà Ecco L'utente Federica Maio L'utente Federica Maio Ha detto Sapevate che riguardo Alla frutta Nella pratica Della magia L'era siciliana Veniva utilizzata Per fare le maledizioni Ma era una cosa Che io volevo dire Era una cosa Che io volevo dire Prima Perché io credo Che qualcuno Ci abbia buttato Una magumba No non credo A queste cose Mi dissocio Mi dissocio Mi dissocio Chiedo il bar Anche qui Però Beh 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 Comunque Abbasso la censura Del nudo Io non sono molto D'accordo Perché Magari Lo banalizzi Poi A parte La banalizzi Comunque Diciamo che Potrebbe Se qualcuno Dà fastidio Una cosa Giusto Perché tu Per forza Gli la devi far vedere No Se tipo Ammetti che a me Potrebbe dare fastidio Il nudo Giusto Non lo guardo Come Non lo guardo Cioè Se ti dà fastidio Il nudo Non lo guardare Esatto Esatto Ma Diverso è magari Per quando ci sono Delle cose Che vengono Condivise E rischierò Di mandare Dei messaggi Sbagliati Allora Se si tratta Di un messaggio Sbagliato E un conto Stavo per dire Quello Stavo per dire Quello Ok Allora Dillo tu Dillo tu E prenditene Credito Il modo Il modo Il modo Il modo è importante Il messaggio Che si vuole dare È importantissimo Non vale Io mi ricordo Quei noti I calendari I noti Le note sponsorizzazioni Sui cartelli Fotovoltaici Di sponsor Dove c'erano Praticamente Ragazze nude Totalmente nude Onestamente Più clickbait Di quello Ma che oltre Cioè Ti devo pensare A un bambino Che Gli casca l'occhio Lì Dico Tu glielo metti In faccia E quello Io lo ritengo Un comportamento Violento Questo dico Questo magari Sì Se tu il nudo Invece lo lasci Nel suo Cioè nel senso In un posto In cui io sono libero Di andarci A vederlo Ok Ma che sia io A voler andare A vederlo Non che tipo È lì In piazza Non è giusto Che una persona In piazza Alcune cose Vanno cercate Non te le devi trovare Davanti Questo è il messaggio Giusto Allora devo dire Che anche questo punto Che abbiamo appena detto Potrebbe essere dibattito Perché Noi abbiamo L'obiettivo Di Attraverso alcuni discorsi Poi arrivare A tanti altri temi Che Naturalmente Affrontiamo con La condivisione Con la chat Che ci dà degli spunti E spero anche Con degli ospiti Di qualità Quindi Il nostro augurio È quello di avere Di avere questo tipo Di riscontro Pertanto Io direi che per oggi Possiamo anche Fermarci qui Che dici Affenebucca Con amarezza Ma senza smettere Di lottare Di mostrare Gli artigli Sì infatti Perché sarebbe stato facile Non Non Andare in onda Questa sera Nonostante Comunque le difficoltà Che ci sono state Perché S'è andata la luce Perché abbiamo avuto Delle notizie Spiacevoli 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 Poi si ride No per carità Voglio dire Spiacevoli Diciamo pastidiose Pastidiose Poi si mangia Dico stasera Stanotte si dorme Domani si mangia Dico non è un problema Soprattutto Più che importante Cominciare Ancora più importante È ricominciare Cercare di ricominciare Quindi Chi si abbatte È bello che possa Riuscire a A rialzarsi In qualche modo Quindi La live Di questa sera È stata fondamentalmente Un attacco Diretto Alla Alla politica Del nulla E alle Multinazionali Lobbistiche Quindi Noi Lotteremo Ci distociamo Nessun attacco Ovviamente Signor Twitch Noi scherziamo Non saremmo in grado Di fare male Nemmeno una mosca Quindi Assolutamente Come siamo combinati Dico Io ho un paio di occhiali marroni Lui ha un cappello di paglia Voglio dire Noi in questo momento Siamo entrati nel personaggio Sì Io sono il contadino Io sono Penso Lo so Il Lippi Non so Lippi Claudio Lippi O Marcello Marcello Lippi Grande Vincente Mi piace questo Va bene Quindi non smettete Grazie 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 Anche se sei mio fratello Quindi sei un po' di parte Grazie Ci servono queste cose Grazie Però Chiedere a persone imparziali Per esempio Federica Maio Che è imparziale Che vediamo in chat Tra l'altro io Vabbè È molto imparziale È molto imparziale Devo dire Forse anche troppo Che volevi chiedere Non ho capito No volevo chiedere appunto A lei cosa ne pensa Perché lei comunque Non ha nessun tipo di legame Con nessuno di noi due Quindi è una persona imparziale Che ha scoperto questo podcast Casualmente scrivendo podcast Su google E quindi Come tutti Sì esatto Sì esatto E' andato su youtube Scusami E' andato su Su google Ha scritto Articolo 21 E ha detto Andiamo a vedere E poi ha scoperto Che lo facevo io Perché io da mesi Gli dicevo di questa cosa Che volevo fare Però lui non mi ascoltava Giocava Potrebbe essere Una grandissima notizia Cerca Podcast Su google E trova suo fratello In live Solamente la notizia Era più o meno diversa Tipo cerca porno Su internet E trova la moglie Una volta era così Però Noi diciamo Siamo un po' edulcorati Va bene ragazzi Libertà Libertà Facciamo vedere un attimo I nostri I nostri social Visto che oggi Ho lavorato parecchio Per farli Ve li guardate Eccoli qua Eccoli qua Anzi Facciamo un'altra bella cosa Visto che ho lavorato Anche su questo Oleh Quindi Articolo 21 Ragazzi Ragazzi Seguitici sui nostri social Eccoli qui Fatevi un bello screenshot Esatto 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 Seguiteci soprattutto Su Instagram Su Twitter Insomma Stiamo 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 cercando Di crescere Di creare una community Si vuol dire Stiamo cercando Di iniziare Senza farci Sbannare Sbannare E senza farci Senza Senza far perdere il lavoro a nessuno Senza far perdere il lavoro a nessuno Ovviamente Ma Perché Noi Lottiamo Porto frutticoli Noi lottiamo Ci avete colpito Naturalmente Siamo aperti al confronto Quindi Invitiamo Eventualmente Un rappresentante Della categoria Orto frutticoli A dire la sua E a difendersi Perché Noi siamo per esempio Per il contraddittorio Giusto? Assolutamente Noi vogliamo aprire Sempre un dialogo Che sia Il più possibile Civile Anzi Che sia solo civile Ovviamente Che poi sfoci E che sfoci Poi ovviamente In un dissing Su internet Che sia solo civile Che sia solo civile Punto Va bene Detto questo ragazzi Stacchiamo tutto Vi saluti E andiamo a dormire Ma ci vediamo Prossimamente Forse è già Ma anche domani Vediamo se c'è Possibilità Va bene? Ciao belli Buonanotte Buonanotte belli Grazie a tutti